Vaccini in primo piano nella conferenza stampa rilasciato oggi pomeriggio dal Presidente del Consiglio Mario Draghi al termine del Consiglio Europeo dell'Unione. Draghi ha confermato sanzioni per gli operatori sanitari che hanno rifiutato il vaccino, si è soffermato sulle misure decise dall'Unione verso le case produttrici dei vaccini in adempienti ed è tornato ancora una volta sul criterio dell'età come criterio fondamentale per frenare gli esiti peggiori della pandemia, letali soprattutto nelle persone più fragili e negli ultrottantenni. Secondo i nuovi dati pubblicati sul sito governo.it e aggiornati alle 8 di stamani, gli over 80 che hanno ricevuto la prima dose sono il 48,74%, vaccinati con due dosi in molte regioni meno del 20%. Tra le regioni che più hanno rispettato le indicazioni del Ministero della Salute, oltre alla provincia autonoma di Trento e alla provincia autonoma di Bolzano, ci sono la Basilicata e l'Emilia Romagna con il 30,18%. A Ferrara, dove il ritmo delle vaccinazioni si aggira attorno alle 2.000 dosi somministrate al giorno, la risposta dei ferraresi, dopo il disorientamento prodotto dal caso AstraZeneca, sembra del tutto in linea con la programmazione provinciale. In città, nel grande hub di Ferrara Fiera, l'organizzazione, dicono i cittadini vaccinati, è pressoché perfetta, dall'accoglienza all'entrata da parte di un militare dell'aeronautica per il controllo della temperatura e la disinfezione delle mani, al check-in davanti al banco del vaccino che è stato assegnato, per ricevere il codice che guiderà, al momento opportuno, davanti al medico per l'anamnesi, che confermerà o meno, l'opportunità di ricevere la sua amministrazione assegnata. Di lì si passa al piccolo ambulatorio vaccinale. Quindi, dopo la vaccinazione, allo spazio è assegnato per la sosta di controllo e per ricevere, sempre secondo il turno assegnato dal numero di codice che apparirà, al momento opportuno, nell'apposito display, il certificato di vaccinazione. L'uscita è sul fronte opposto dell'entrata. Non c'è bisogno di tornare indietro. La gentilezza del personale per ogni informazione è davvero garantita. Ora i vaccini ci sono, commenta una signora appena vaccinata. Sarebbe sciocco non approfittarne. Intanto, in provincia, il 58,6% degli ultraottantenni ferreresi, al momento, sono coperti col vaccino e il 2 maggio prossimo, l'ultimo ultraottantenne che si è prenotato, dovrebbe ricevere l'ultima, cioè la seconda dose. Mentre un ferrerese estremamente vulnerabile su 10 è stato vaccinato con la prima dose. Ci si sta organizzando, ha comunicato ieri la direttrice dell'azienda sanitaria provinciale di Ferrara, dottoressa Monica Calamai, in conferenza socio-sanitaria, per la fase 3 della campagna vaccinale. Auspicando l'arrivo di più dosi, arriveremo a 2.300 somministrazioni quotidiane e ci stiamo preparando per raggiungere le 4.000 dosi al giorno.